Musica Musica Poi adesso siamo alle selezioni per la semifinale, quindi siamo pronti per decretare chi si sfiderà con chi. Signor notaio, preparato e pronto? Eccoci qua, nel 2021 dipendiamo ancora dai bigliettini. Io piglio il primo a destra. Questo? O questo? Sì, faccio gioco. Quello lì, quello lì. Ok, il primo è Calzolari. Bene, allora, Calzolari sarà il primo. Io prenderei a questo punto il terzo da destra. E che comunque è quello in mezzo perché... Bravo. Licchetta. Ok, quindi Calzolari-Licchetta è la prima semifinale, Marcello vai col terzo. Io ho il secondo da sinistra. Quindi questo o questo? No, questo, esatto. Questo? Sì. Mariani. Ok, quindi la prima semifinale è Calzolari-Licchetta-Mariani. Licchetta e Mariani. E la seconda, sicuramente, a Brescia, Mercari e Lipani. Interessante, eh? Bene. Abbiamo degli scontri... Ci regaleranno delle... Esatto. Allora, vogliamo anche dire come si svolgerà. Perché noi in realtà abbiamo il pitch che non è più una prova praticabile, siccome l'abbiamo già fatto. E quindi noi abbiamo inventato nella prima parte delle semifinali un quiz, vero Marcello? Certo. Non pensino i nostri concorrenti di andarsene senza dare sfoggio della loro cultura, quindi... Allora, questo quiz noi l'abbiamo diviso in cinque categorie in cui loro dovranno prepararsi. Se vogliamo anticiparli così magari studiano un po'? No, 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 no. Grazie per la visione! Grazie per la visione!